Game of Thrones Game of Thrones, chi è il personaggio con più follower su Instagram? . Molti degli attori del Trono di Spade, la serie Sky Atlantic più popolare di sempre, devono la loro celebrità al Trono di Spade. Questa iconica avventura ha segnato il loro futuro in maniere che ancora, forse, non riescono a concepire. . Una di queste è la fama social, una potente arma a doppio taglio che non solo li rende i primi tra gli influencer del piccolo schermo, ma apre anche infinite possibilità di trovare altri ruoli. Ai nostri occhi, però, li ricorderemo sempre avvolti nei loro pellami preziosi, con una spada saldamente fissa alla cintola. . Chi è il più pagato di Vesteros? Si è parlato tanto dei cachet degli attori che interpretano gli iconici personaggi del Trono di Spade. . Dopo una settima stagione che ha visto coronare i sogni più romantici, e incestuosi, della storia delle serie televisive, il Barietti ha rilasciato una lista degli attori più pagati, confermando le aspettative della Bo sugli attori che non hanno tradito le loro aspettative. . . . . . . . . Chi è il più popolare di Vesteros?. . 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